È un giorno di una profonda emozione, con grande semplicità, con grande umiltà. Sapete che sempre dico niente è triunfalissimo, però sì credo che è un grande dono nella figura di questo umile salesiano coagliutore, vuol dire non prete, vero testimone di salesianità, di santità, di preghiera. Il profilo professionale di Artemide Sati, iniziato con una promessa, era radicato nella fiducia, nella provvidenza. Una grande fede nel Signore e un grande amore alla Madonna Auxiliatrice, e li trovò nella figura del salesiano coagliutore lo stile dell'impegno a lavorare direttamente con i poveri. Per questo la professione infermieristica aveva un valore aggiunto. La sua presenza era una testimonianza della bontà di Dio. E allo stesso tempo vive sempre questa missione in grande comunione con i suoi confrateli salesiani e con un grande senso di comunità e di congregazione. Ma tutto questo è stato possibile perché la preghiera era come il respiro della sua anima. Con fede sopportò la malattia e indirizzò la sua vocazione, che alimentava quotidianamente in unione con Dio. Senza dubbio sarà santo intercesore per la vocazione nella Chiesa e nella congregazione salesiana e in particolare nella bella vocazione dei figli di Don Bosco, che siete i salesiani coagliutori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.